A un certo punto della mia vita ho capito che avevo una missione. Dappertutto vedevo giovani coppie. Mi imploravano di aiutarle. È stato allora che ho capito. Da grandi poteri derivano grandi responsabilità. Scusi, Siffredi, ma quest'ultima frase non è presa dall'uomo ragno. Decisi di incontrare i più grandi maestri di saggezza. Da che ero il suo maestro, sono diventato il suo umile discepolo. Lui aveva qualcosa di più grande degli altri. E un giorno ho visto la luce. Aiutare le coppie a ritrovare il proprio affiatamento, riaccendere la passione. Questo è diventato lo scopo della mia vita. A loro ci penso io. Ci pensa Rocco. Da martedì 5 novembre alle 23 su cielo. La felicità esiste solo se condivisa. Mi perdoni, questa è una frase rubata da Into the Wild. Ma allora lei cerca rogne.